Eccoci qua, belle strade della Basilicata, guardate queste colline meravigliose. Friends Bike, nella loro seconda tappa, che oggi prevede Matera, Botezza. Siamo nella zona di Irzina, guardate, guardate che belle strade. A più tardi vi aggiorniamo, siamo in salita, non è tosta ma sempre salita. Ci aggiorniamo, a dopo, ciao!